è terminato l'incontro è terminato l'incontro qual della vittoria di via nazionale 3 a 0 il risultato finale 3 a 1 3 a 1 ecco rettifico 3 a 1 giusto il risultato finale a favore della Vittus che stai prendendo ok qui stai mettendo la macchina tua che lo portiamo al campo grazie